Secondo i beninformati, vivevano da separati in casa da almeno un anno. Per questo le dimissioni del vice sindaco di Bresighella, Dario Laghi, non hanno stupito tutti quanti in paese. È datata 29 gennaio 2013, infatti, la prima uscita pubblica di Laghi contro il proprio sindaco Missiroli, una lettera aperta nella quale il vice sindaco esortava il primo cittadino a risolvere urgentemente i problemi di illuminazione della frazione di Foniano. Ad inaccedire i rapporti, successivamente, sarebbero arrivate la gestione delle tasse e il ponte lungo. Sono quattro i punti che il dimissionario Laghi contesta sindaco Missiroli al momento delle proprie dimissioni, a tre mesi dalla fine del mandato e dalle nuove elezioni che decideranno la nuova realtà amministrativa di Bresighella. Al primo punto, la decisione, sbrigativa e superficiale, di applicare la quota massima e dell'IRPEF in controtendenza con altre amministrazioni comunali e, accusa Laghi, senza un'attenta analisi delle possibili alternative offerte dal bilancio comunale. La seconda contestazione colpisce il trasferimento dell'ufficio tecnico da Palazzo Municipale a Villa Rondinini, voluto per far posto ad una mostra mai allestita e conseguentemente affinando i locali ad una cooperativa di noleggio bici, veicoli pagati con soldi pubblici ma mai utilizzati. L'atteggiamento riservato da Missiroli sulla questione dei lavori del Ponte Lungo è forse il peccato più grave contestato dal vice sindaco al proprio compagno di governo. Sbarcatosi pubblicamente per sostenere un'iniziativa popolare già alcuni mesi fa, nella lettera dove spiega le proprie dimissioni, Laghi accusa il sindaco di aver tenuto con la provincia un atteggiamento troppo morbido e poco incisivo. Infine, stando sempre a lettera di Laghi, il vice sindaco avrebbe rifiutato di condividere con Missiroli il secondo mandato alla guida di Bresighella, ottenendo in cambio l'estromissione dalla decisione amministrativa quotidiana. Per ora, Laghi preferisce non parlare, passano in molti a porsi qualche interrogativo su queste dimissioni arrivate a pochi mesi dalla fine del mandato.